Buongiorno a tutti, oggi è mercoledì 13 maggio e torniamo a parlare di analisi ciclica evoluta su DAX e Fuzimib. Come detto nell'analisi di ieri mattina, se si voleva prima andare a chiudere il bisettimanale, il ciclo T più 1 partito qualche tempo fa, bisognava andare a finire sotto 2T meno 3, ovvero avere un T meno 2 ribassista. Che cosa abbiamo fatto? Se verrà confermata l'apertura di questa mattina a meno 137 punti circa, a 10704, ci troveremo ad aprire qui sotto. E quindi avremo avuto 1 e 1 secondo potenzialmente T meno 3 a ribasso e quindi un T meno 2 ribassista. Condizione minima per la chiusura appunto di un T più 1. Interessante. Dato che immagino che lo possa essere, facciamo poi un passo in avanti. Dato che avremo una condizione minima per la chiusura, non aspettiamoci altre cose particolari, perché guardate, siamo qua e ci troveremo qua, sotto tante medie mobili. E aprendo il grafico anche della DAX a candele giornaliere, avremo che avremo avuto 1, 2, 3, 4, 5, 6 candele, più quella di oggi 7, che ci portano appunto a una potenziale chiusura, come detto, del nostro T più 1. Tutto torna. D'inverso, a che punto siamo arrivati? Siamo arrivati a questo punto. Ovvero, qui abbiamo avuto 6 bar, quindi qui può aver chiuso anche teoricamente un settimanale, e qui può star partendo un nuovo settimanale, che può poi rigirarsi tranquillamente a rialzo. e che lo deve fare per due giorni, peraltro. Per cui, terminata questa fase di ribasso, dovremo vedere dove si arriverà e come eventualmente valutare di ritornare long. Ieri ci ho fatto disperare, ok? Troppa lateralità. Speriamo che oggi ci sia meno lateralità. Oltretutto ho fatto notare al gruppo di persone che mi danno più tempo, che purtroppo, molto spesso, i mercati si mettono a muoversi di più quando ci sono pochi volumi, ovvero fuori dalla continua, ovvero dalle 5.31 alle 9 di mattina, tagliando fuori i trader, che non prendono posizione prima di muoversi in overnight. Per cui, bisogna mettere in conto, purtroppo, il fatto a volte che o si rischia tanto, oppure è meglio non rischiare e vedere di ritornare nel senso corretto. Ovvero, pro trend. Andiamo a fare un salto su Fuzzimib. Su Fuzzimib, cosa molto assimile è MA. MA, MA, MA. Proferirei, dato che parlo con tanti gruppi di trader e anche singoli trader, dare retta a una persona che si sta dimostrando estremamente in gamba. Ovvero, qui, faccio che togliere questo e ci metto un bel raccordo da quattro giorni. Eccolo qua. Uno, due, tre, quattro. E qui ci metto invece la partenza effettiva del nuovo t-mino tre. Anzi, scusate, t settimanale. Non t-mino tre. Qui vado a correggere, metto il secondo. Qui il terzo. E quindi ricordiamoci sempre che anche su Fuzzimib, attenzione, si rischia, in questo momento, di rimanere in ritardo rispetto al DAX. Ah, un'altra cosa sicuramente. Guardate qui su inverso, poi ritorno anche su inverso di DAX. Qui siamo arrivati a 22 barre e se qui è partito effettivamente l'ottavo, ma ci lascio un bel punto di domanda, sta facendo i tempi del DAX. ovvero sta scendendo sotto le 24 barre su inverso. Qui mettiamo 16,15. Altra cosa che mi stavo dimenticando su DAX, quindi questa la salviamo, è questa. Ovvero, qui purtroppo non può essere partito un secondo t-3 inverso, almeno che poi non si ritorni rapidamente sopra questo massimo dopo aver fatto questa discesa. vediamo. Tutto è possibile, ok, ma qui non può essere andato a 50 barre, purtroppo qui si può essere chiuso appunto il nostro t-3 inverso, il primo, il secondo può essere effettivamente in partenza da qua, dalle 13,30. Lo metto qua. 13,30. e qui purtroppo dobbiamo metterci probabilmente un bel raccordo ciclico che ci porta oltre le 44 ore, quindi dalle 9,30 in avanti, ma non tanto non serve, ci serve soltanto segnare che è un raccordo inverso. e da qui può essere partito effettivamente il secondo t-3 inverso che sta sparando appunto ben sotto questi minimi andando a far chiudere appunto il settimanale. Se l'analisi vi è piaciuta mettete un like, sottoscrivete il canale, cliccate sulla campanella, sappiate comunque sempre che gli approfondimenti li trovate invece sui gruppi Facebook. e splendida giornata a tutti.